Sea kayaking lungo la riviera del Conero Day 10, decima giornata In questo video Max fa il roll-on Hai visto che ce l'hai fatta? E che devi essere in GoPro per riuscirci Sono i video col cellulare che non ti fanno bene 31 agosto 2024 Ho visto da quando eri già giù perché non avevo ancora fatto partire Riprese con GoPro Hero 11 in 4K a 60fps Hyperview Niente, la prima era andata meglio, la prima con la Giante che si è riuscita Con la Pagaia Greenland che dovrebbe essere più facile Invece no E che stavolta si era reso conto di essere in video, ancora l'emozione Vai prima che vado a sbattere sulle rocce Ai che c'era cavolo E chiudiamo questo video con un replay, un rallenty del primo roll-on Quello è riuscito meglio Hai visto che ce l'hai fatta? Questo video è finito Metti mi piace Iscriviti al canale In modo da essere informato su tutti i nuovi video che verranno caricati Guarda altri video Ce ne sono di vari generi I video di questo giro sono terminati Ciao, alla prossima